Che cosa ci regalerà Notorious Pictures per la seconda parte del 2018? Noto che si tratta di un listino molto vario o variegato. Come nostra tradizione, come hai detto bene te, la nostra caratteristica è quella di proporre sempre un'offerta che sia il più ampia possibile variegata. Abbiamo star internazionali che ci accompagnano a questo meraviglioso viaggio del calibro di Johnny Depp, Gerard Butler e Giulia Roberts, che dopo il successo di Wonder è più che mai strepitosa e straordinaria. Inizierei, se vuoi, dalla commedia, anzi scusa, da un dramma, da un film drammatico che vede come protagonista la bella addormentata di Maleficent, Helen Fanning. Ed è una storia molto bella perché racconta di come Mary Shelley sia riuscita ad arrivare a scrivere quello che è il capolavoro gotico di tutta la letteratura mondiale. È una storia molto avvincente perché c'è un parallelismo tra la sua vita e tra quello che poi lei ha scritto, questa storia di Frankenstein. Perché si innamora, ha avuto un amore tormentato che l'ha portata proprio ad arrivare a concepire la creatura. Ha dovuto scontrarsi contro l'ottusità della società del tempo, quindi c'è proprio una lotta per l'emancipazione femminile. Tant'è che, io non lo sapevo, Mascelli non è il suo cognome, è il cognome del marito, che era anche lui uno scrittore, chiaramente meno famoso. Perché in quel periodo chiaramente alle donne non era data l'opportunità di poter scrivere. Lei ha 18 anni, non solo ha scritto, ma ha scritto un capolavoro come Frankenstein. Questo film è molto bello perché racconta proprio anche di quando poi vanno a casa di Byron, quando quindi si devono, diciamo, c'è questa gara a chi scrive il miglior racconto sui fantasmi. Naturalmente sappiamo già chi vincerà. Comunque è una storia molto bella ad amore ed emancipazione al femminile. Dopodiché, cambiamo genere, come abbiamo detto all'inizio, passiamo a una commedia sentimentale, molto molto carina, che uscirà in America il 10 agosto con oltre 3.000 copie, quindi un'uscita larghissima. Noi abbiamo visto il film a cani, ce ne siamo innamorati, perché è una commedia che vede sì i protagonisti di quattro cani, ma in realtà è grazie a questi quattro cani che i padroni cambieranno vita, si incontreranno, si innamoreranno, faranno nuove amicizie, tutto grazie a questi simpatici amici a quattro zampe. Quindi da un lato la simpatia, la tenerezza che ispirano i cagnolini, da quell'altra la vita che cambia è che spesso questi animali, prendersi cura di un animale, ci rende proprio migliore come persona. Ed è quello che emerge da questo film. Il cast è molto importante, cito Vanessa Agence, cito anche Tim Woolford, che è il ragazzino protagonista di Stranger Things. E niente, siamo anche qui molto contenti di questo film, speriamo piaccia al pubblico, uscirà il 13 settembre. Dopodiché sarà la volta, come vedi, continuiamo a spaziare da un genere a un altro, The City of Lies, l'ora della verità, che è il film che vede il ritorno di Johnny Depp in sala cinematografica, accanto a lui lo accompagna uno straordinario Forrest Whitaker. Il film ruota tutto attorno all'indagine che è stata fatta per scoprire chi ha ucciso Tupac Shakur e Notorious Big. Quindi è un thriller che indaga su quello che è il più grande mistero che tutt'oggi ancora esiste nel mondo della musica, nella storia della musica. E Johnny Depp interpreta proprio nella storia vera il Detective Pool, che è colui che ha dedicato tutta la sua vita a cercare di svelare il mistero dietro questi omicidi famosi. Finalmente, io dico che chi vedrà questo film sarà soddisfatto, perché finalmente avrà un punto di vista molto più veritiero di quelli che ci hanno raccontato fino ad oggi. Dopodiché sarà la volta sempre di un altro thriller un po' diverso, perché è un thriller molto misterioso, ruota attorno al protagonista che è Gerard Butler, che è anche produttore di questo film, che insieme a due compagni gli viene affidata una di quelle che apparentemente è la missione più semplice, lavorativamente parlando, che ti possa essere affidata, che è quella di fare il guardiano di un faro di un'isola remota. Tutto finaliscio fino a quando un misterioso personaggio apparentemente morto arriva naufraga nell'isola insieme a una cassa piena d'oro. Quindi tutto ruoterà intorno all'oro e l'oro, come sappiamo, acceca. Quindi sarà tutta una lotta di sopravvivenza. Quindi la missione più semplice di tutte in realtà si trasforma in quella che è una missione per capire chi sono veramente le persone, cosa porta a fare la cupidice, la bramosia di ricchezza. Bene, dopodiché passiamo a una commedia italiana. Come nostra tradizione avremo una nuova commedia italiana. Non è vero ma ci credo che vede protagonisti per la prima volta su grande schermo reddici dal successo televisivo che hanno avuto con una produzione su Sky, Innamorati di me, Nunzi e Paolo, il duo comico nato negli anni 90 a Roma dal celebre successo di Magic TV. Nunzi e Paolo sono come nella vita una coppia di amici che dopo varie disavventure ricevono l'ultimatum dalle proprie mogli che se non riescono a fare un'attività, perché fanno i mantenuti, quindi se non riescono a fare finalmente un'attività lavorativa degna di nome verranno lasciati senza soldi e senza mogli. Quindi hanno questa idea meravigliosa di aprire un ristorante vegetariano se non che colui che dovrà giudicare il loro lavoro è un celebre maestro francese che però è smaccatamente carnivoro. Quindi sarà un po' un problema coniugare i vegetariani con la necessità di cucinare la carne. Quindi molte gag ma sarà molto molto divertente. Sarà poi la volta di A Private War, un film drammatico con protagonista Rosamund Pike che quindi dopo Styles torniamo a distribuire un film con lei protagonista e accanto a lei ci sarà Jamie Donner che è il celebre protagonista di 50 sfumature di grigio e nero. Vediamo la storia di Mary Colvin, una delle più famose reporter di guerra che diciamo che cosa ci ha colpito molto di questo film è che oltre a analizzare cosa spinge una donna a portarsi in territori così pericolosi e anche inaccessibili come riesca però allo stesso tempo a coniugare la sua vita privata e quindi avere una relazione amorosa, avere amicizie. È molto bello anche se lei come sappiamo perché è una storia vera verrà uccisa in un conflitto di guerra. Molto bello perché le sue indagini, i suoi servizi sono serviti per portare alla luce delle nefandezze tremende e poi è molto bello perché analizza proprio ripeto come una persona impegnata, una donna lavoratrice a questi livelli famosa riesca a coniugare tutto anche con la sua vita privata. Abbiamo poi a Natale l'offerta nostra natalizia che prevede da un lato Asterix e il segreto della pozione magica dove finalmente il druido svelerà qual è il segreto di questa pozione non lo svelerà naturalmente Asterix o Obelix ma tutto il film ruota attorno alla necessità di trovare un nuovo druido più giovane quindi viene fatta una selezione e naturalmente chi scombinerà i piani sarà anche qui una ragazza come vedi Notorious punta molto sui film con protagoniste donne quindi protagonismo al femminile e ci sarà una ragazzina ribelle che vorrà anche lei provare a partecipare e a poter diventare il nuovo druido cosa che non è mai successo nel Regno dei Galli. Abbiamo per finire l'ultimo film di Natale che è quello che ci rende anche più orgogliosi e felici che è Ben Is Back ed è, vede protagonista assoluta Giulia Roberts che ripeto dopo il successo di Wanda è tornata ad essere la star con la S maiuscola e al suo fianco lei interpreta una madre, una madre coraggio però anche piena di forza, di volontà, di felicità, di voglia di regire che si deve occupare del proprio figlio interpretato da uno straordinario Lucas Edge che è un po' l'astronascente del cinema mondiale ricordiamo la recente nomination per Manchester by the Sea questo ragazzo che era in un ospitato, in un centro di recupero decide alla vigilia di Natale di tornare alla propria casa, alla propria famiglia quindi qui scombussolerà un po' i piani di tutti ma soprattutto si troverà costretto ad affrontare i suoi demoni grazie e soprattutto all'aiuto di sua madre ci sarà diciamo una speranza il film è molto bello, commuove, emoziona allo stesso tempo fa ridere, fa piangere una Giulia Roberts secondo me è già in odore di possibile nomination agli Oscar grazie mille grazie a te grazie